Decine di vittime negli incendi Il numero di periti nei recenti roghi cresce di giorno in giorno Ebbene molti risultino irriconoscibili, il True Crescent è in grado di pubblicare i nomi di altre otto vittime Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore Perché le cose di prima sono passate Apocalisse 21.4 Nelle prossime settimane verrà allestita una cerimonia funebre pubblica